Ciao, ti do il benvenuto o il bentornato sul canale Vesti la tua personalità. Mi chiamo Cristiana, sono consulente d'immagine e col mio lavoro voglio incoraggiare le donne a costruire uno stile personale e un armadio che siano coerenti con la propria personalità e il proprio stile di vita, con lo scopo di ritrovare fiducia in se stesse, vedersi belle e piacersi. Su questo canale parliamo di stile personale, di shopping e guardaroba e di self care. Per cui se questi argomenti ti piacciono e ti interessano, ti invito ad iscriverti al canale e attivare la campanella per non perdere tutti i prossimi video. Per oggi ho pensato di farvi un video un pochino diverso dal solito. Come vi dico spesso nei video e come vedete anche dalla copertina, sul canale parliamo sì di stile personale, vi do consigli per lo shopping e per il vostro armadio, ma parliamo anche di self care perché questo è un tema che mi sta molto a cuore, intanto perché credo che vestirsi bene sia un atto d'amore per se stessi, allo stesso tempo perché se sono diventata consulente d'immagine è anche perché la mia missione è quella di aiutare le donne a stare bene con loro stesse e quindi in qualche modo il prendersi cura di se stesse e il volersi bene è un aspetto del mio lavoro molto importante. Ecco perché voglio comunque portare sul canale YouTube anche dei video un pochino più leggeri, non che questi temi siano pesanti, sono comunque leggeri, però volevo portarvi anche dei contenuti che fossero un pochino più di intrattenimento e meno informativi riguardo a quello che è il mio lavoro di consulente d'immagine. Ecco perché in questo video vi andrò a parlare di tre cose che mi piace fare per prendermi cura di me stessa. Non sono tre abitudini che io ho quotidianamente, o meglio due di queste pratiche, di queste abitudini sono abbastanza quotidiane, cioè cerco veramente di impegnarmici tutti i giorni, la terza invece non è un'abitudine mia quotidiana ma è comunque una pratica che cerco di fare quando ne ho tempo. In ogni modo ti spiegherò tutto meglio nel corso del video. Ti ho registrato delle clip a parte che ti metterò a breve per cui non concluderò il video con me che parlo ma ti lascio alle clip che ho registrato. Se questo video ti piacerà lasciami un like e fammi sapere nei commenti invece cosa fai tu quando vuoi prenderti cura di te stessa, quindi quali sono quelle pratiche che ti aiutano a stare meglio con te stessa e a rilassarti. Io ti ringrazio per essere passata di qui anche solo per pochi minuti e ti lascio alle clip. Ciao! Ogni mattina io faccio l'allenamento più o meno appena essermi svegliata o comunque dopo poco tempo, quindi una delle cose che faccio tutte le mattine di conseguenza è fare la doccia, oggi avevo anche lavato i capelli e quindi mi vedete con il bigodino e poi immancabile per me tutte le mattine è la skin care. non passa giorno senza che io non faccia la mia skin care routine che varia un po' in base al periodo dell'anno. In questo momento fa ancora caldo quindi non ho una skin care routine molto lunga, avevo già deterso il viso e applicato un tonico o un acqua termale dipende da quello che ho in quel momento a disposizione e poi come vedete applico il contorno occhi facendo anche un piccolo massaggio che mi aiuta anche un po' a rilassarmi. Dopodiché applico una maschera per le labbra di cui non sono molto soddisfatta, infatti non vedo l'ora che finisca ma è praticamente infinita, cioè non mi finisce mai, ce l'ho già da diverso tempo e questo mi aiuta comunque a tenere le labbra un pochino più idratate. Dopodiché passo alla crema idratante, metto un pochino di crema sul viso e ovviamente non mi dimentico mai del collo e della zona del décolleté che sono parti del corpo dove invece solitamente tendiamo a non applicare praticamente nulla. Anche con la crema idratante cerco di fare un piccolo massaggio, dipende un po' dalle giornate, alcune volte vado un pochino più di fretta e quindi applico la crema in maniera un pochino più veloce ma quando ho quei 5 minuti in più mi piace davvero dedicarli a me stessa e quindi come vedete faccio dei movimenti lenti, picchietto veramente la crema con molta delicatezza. Non so effettivamente quanto questi massaggi che si fanno al viso siano effettivamente utili, però una cosa è certa, sono molto rilassanti e quindi ecco mi piace prendermi cura di me stessa in questo modo anche perché vi assicuro che non ci metto più di 7-8 minuti al mattino. Poi la crema che rimane la massaggio bene anche sulle mani perché anche le mani sono una parte del nostro corpo di cui tendiamo un po' a dimenticarci. Poi questo è uno step che non faccio tutti i giorni, a volte lo faccio al mattino, a volte faccio la sera ma non sempre, ed è mettere un olio sulle cuticole perché io ho le cuticole molto secche e quindi tendo a ogni tanto quando mi ricordo ad ammorbidirle appunto con quest'olio che tra l'altro ha un profumo molto delicato di mandorla, mi piace molto. dopo aver messo l'olio su tutte le cuticole, quello che vado a fare è stenderlo, quindi anche qua faccio questo piccolo massaggino sulle mie cuticole per ammorbidirle e vi devo dire che anche questa attività per me è davvero molto rilassante, infatti non so se notate il mio viso, stavo quasi per addormentarmi. Poi a questo punto se so che devo rimanere in casa e quindi tendo a non truccarmi magari, una cosa che vado a fare però praticamente quasi tutti i giorni è sistemare comunque le sopracciglia perché se io so che ho fatto la skin care anche se non mi trucco ma ho le sopracciglia sistemate e mi sento comunque abbastanza in ordine e questo mi aiuta a stare meglio con me stessa durante tutta la giornata, avere invece le sopracciglia in disordine considerando anche che io le ho molto asimmetriche in qualche modo non mi fa stare propriamente a mio agio con me stessa, invece anche se non sono truccata però le sopracciglia sistemate mi vedo già molto meglio. Quindi una delle attività quotidiane che faccio per prendermi cura di me stessa è senz'altro la skin care. Passiamo ad un'altra attività che cerco di fare quotidianamente che è quella di comunque sistemarmi, quindi anche se spesso lavoro da casa ai report per le mie clienti cerco di non farlo mai in pigiama struccata ma cerco comunque sempre di darmi un tono. Ora vabbè qui mi stavo un po' ingioiellando perché avrei anche registrato l'intro di questo video e avrei anche poi avuto una call con una cliente però comunque in generale cerco sempre per stare meglio con me stessa di sistemarmi. Terza attività che come vi dicevo nell'intro del video non faccio tutti i giorni chiaramente ma cerco comunque di dedicarmi del tempo almeno una volta al mese è la manicure. Anche fare la manicure in casa è un'attività che a me rilassa veramente tanto. Qui stavo appunto applicando un olio per cuticole differente da quello che avete visto nell'altra clip, questo è un pochino più pesante quindi molto più ammorbidente. Dopodiché con questo attrezzo che non so quale sia il suo nome tecnico lo chiamerò spingi cuticole. Stavo appunto delicatamente spingendo le cuticole in dentro di verso il dito. Scusatemi non sono molto pratica di manicure quindi non conosco i termini tecnici. Anche qua come vi dicevo prima anche questa è un'attività che mi rilassa veramente tanto e io credo che il segreto per fare delle attività anche in casa che siano rilassanti è quello di svolgerle per quanto possibile con delicatezza quindi con dei movimenti delicati senza essere troppo brusche. Dopodiché una volta che ho finito di spingere le cuticole ovviamente faccio tutto anche con l'altra mano, non vi ho ripreso tutte quante le clip e poi quello che vado a fare è tagliare le cuticole, pulire bene il giro cuticola e poi vado a limare l'unghia. Non vi ho ripreso tutti i passaggi anche perché avevo la memoria del telefono piena e quindi a un certo punto ha smesso di registrare. Una volta che poi ho finito di limare tutte le unghie vado a mettere uno smalto solitamente trasparente perché ho le unghie molto fragile e questo è uno smalto invece indurente. Poi una volta fatto questo vado a mettere anche uno smalto colorato ma in realtà non sempre perché io per stile mi vedo bene anche con appunto uno smalto trasparente quindi nessun colore sulle unghie. E queste ragazze erano le tre attività che spesso faccio per prendermi cura di me stessa. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia anche un po' rilassato. Io vi do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo video. Ciao!